Buongiorno a tutti, eccomi tornata in un nuovo video. Allora, colazione. Mi sono fatta una tazzona di latte di mandorla con il solito caffè orrendo. In realtà mi sto anche abituando a quel caffè. Sono già in postazione, ho qui computer, hard disk, tutto il necessario per impazzire e sistemare i file. Questo è il giorno buono, me lo sento, me lo sento. Poi devo sistemare la cucina che è un casino di questo tipo e tra l'altro ho qui il canettone. Avevamo comprato il panettone per nasci, cioè per cani, si chiama canettone e poi ho avuto l'incidente ovviamente dopo Natale non glielo abbiamo dato perché avevo paura che venisse tipo la distenteria. Poi cosa è successo? Ho avuto l'incidente quindi non abbiamo potuto darglielo. Tra l'altro piangevo pensando al canettone. Oddio, no? La guardavo il canettone e dicevo non lo mangerà mai perché morirà. Vabbè, ora lo può mangiare però glielo abbiamo dato e gli fa schifo. Cioè proprio la odia. Non ha neanche leccato. Cioè l'ha proprio snobbato. Quindi nulla. Il canettone verrà buttato. Meglio così. Anche perché ha brutti ricordi legati a quel canettone lì. Allora mi metto al lavoro e ci vediamo a metà e mattinata. E allora io ho stampato l'autocertificazione sperando che sia quella nuova perché so che è cambiata. Ora la compilo e poi mi sono stampata l'assicurazione della macchina perché è nuova appunto. Io non l'ho mai utilizzata quindi non ce l'avevo dietro. Ora preparo qualcosa da mangiare e... Ah! Ho montato il video. Cioè l'ho montato di qua, l'ho esportato, lo sto controllando di là perché devo montare di qua però da qua non mi girano i video perché è troppo pieno. Quindi lo sto verificando di qua. E quindi vabbè. Comunque ho fatto un sacco di roba stamattina. Sono molto contenta e molto produttiva. Pronti per mangiare e poi andiamo da ranna. Eccomi qui. Allora ho scaldato un pochino d'olio. Oggi proviamo le polpettine vegetali. Ho preso queste qui di Lidl. Costano pochissimo. Meno di 2 euro più o meno. Sì, meno di 2 euro. E non le ho mai provate. Ho sentito che sono un po' troppagliose. A me l'aglio piace però non so. Vabbè vi faccio sapere, le provo. Presa dalla foga di mangiare perché sono in ritardo che devo andare dalla nonna. Le ho messe tutte ma mi sono già pentita. Sono sicuramente troppe. Vabbè. Sentite sgranocchiere Nashi che mangia. Pranzo. Allora molti rimangono sconvolti del fatto che io mangi i peperoni crudi. Ora li mescolo un pochettino. Ma a me piacciono moltissimo. Tipo in insalata con un po' di aceto. Di quello di mele. Questo è mello grano in realtà. E con l'olio e il sale. Cioè io li digerisco perfettamente. Ma io digerisco tutto. Quindi insomma non mi stupisce niente. E queste le famose polpettine. Poi le mangio. Ora le mangio tutto al volo perché sono un po' in ritardo. E nulla. E poi vi faccio sapere se mi sono piaciute o no. Più avanti. Allora le polpettine sono buone. Un po' secche. Non so se riesco a farvelo vedere. Si sbriciolano. No vabbè non si vede. Comunque si sbriciolano un pochettino. Suggerisco sicuramente di abbinarle ad una salsa o qualcosa di fresco. Con i peperoni non vanno male. Però ci avrei messo una maionese. A me non piace la maionese. Qualcosa di simile. Comunque non male. Arrivata a casa della nonna. C'è un silenzio inquietante. Sotto qui di solito c'è il bar. E non c'è nessuno. Lì è sempre pieno di gente. Meno male. Le persone che ci sono hanno la mascherina. Che c'è il parco dove sono cresciuta. E non c'è nessuno. Mi avvicino al parco. La nonna mi portava qui tutti i giorni. Mi è venuta un po' di tristezza venendo qua. Perché non mi ha fermato nessuno. Ma vedere la mia città così è veramente triste. Vabbè vado a casa della nonna. Guardate un mezzo tutto vuoto. Un autobus vuoto. Vabbè. E nulla. Quindi non mi ha fermato nessuno. È una buona cosa. Anche perché avevo l'ansia lo sapete. Da ieri. E non ho visto nessuno. C'è poca gente in giro. Davvero poca gente. Anche questa è una buonissima cosa. Sono riuscita ad utilizzare la macchina. Che sapete essere nuova. Quindi. È la prima volta. L'ho comprata un mese fa. Due mesi fa. Ho potuto utilizzare. Avrei potuto utilizzarla. Perché ho fatto l'assicurazione. Aspettavo che me l'attivassero. Diciamo. Da quattro settimane. Ma poi non sono più uscita. E quindi nulla. E ora vado dalla nonna. Speriamo di trovarla bene. Speriamo che abbia dormito. Perché se ha dormito. Posso tornare a casa a dormire. Se invece non ha dormito. Mi fermo. Mi fermo qui da lei. Questa colonna. È quella su cui ho picchiato correndo. Da bambina. Per la quale mi sono fatta questa cicatrice. Mi hanno messo dei punti in fronte. Stavo correndo in seguita da un bambino. Mio amico. E sono finita contro una colonna. Una nonna mi ha portato in braccio su. Me lo ricordo benissimo. Eccoci qua. La nonna abita in case popolari. Eccoci. Quindi. Non saranno eleganti. Ma le amo. Ed eccomi. Bellissima. Bella come non mai. Tutto ovviamente per proteggere la nonna. Perché me ti chiedo che abbia un mezzo virus. Anche non il coronavirus. Ma un altro non va bene. Quindi questa è la misura necessaria. Sperando che faccia qualcosa. Madonna mia. Avrò le mani tutte sudate alla fine della giornata. Beh. Com'era quella storia della bomba? Me la racconti meglio? La storia della bomba. Eh. Eravamo tutti in rifugio. A casa vostra? Milano? Milano. Ok. Era rifugio. Sì. Eravamo in rifugio. E' venuta giù la bomba. Sulla casa. Però non ha preso il rifugio. Non ha preso il rifugio ma ha preso la casa. Ha preso la casa. Ok. E allora sai lui quando si è sentita la bomba. Sì. Lo chievo. Sì. E' un fantino. Sì. Ha detto io c'è un oro in casa. Lo devo andare a prendere. E che cosa? E adesso prenderlo e le scoppiare la bomba con la scheggia. Ok. L'ha preso lui e è morto. Oddio. Ma davanti a te? No no davanti a te. Era andato via? L'hanno portato in rifugio. Ah. Ma no il rifugio era grande. Non era... Era grande? Ma grande come? Come questa casa o di più? No di più era lungo. Ah ok. Vabbè e quindi è caduta la bomba. Questo qui è andato fuori ed è stato ammazzato. E poi come... Ed eravate chiusi dentro perché non c'erano più via d'uscita? No no. C'erano via d'uscita? Uscivo, c'era. Ah ok. Perché io mi ricordavo che tu avevi detto che era... Che era arrivata la bomba. Era caduta la bomba sulla palazzo ed eravate rimasti bloccati. E poi ne è caduta un'altra e siete... Vi siete liberati. Sì ma la casa l'abbiamo dovuta cambiare. Ma la casa l'avete dovuta cambiare. E vabbè capita nonna, quanto meno sei viva. La guerra è durata cinque anni. Questo non può... Non può durare cinque anni anche questo. E no vabbè. Speriamo. Tu sei positiva. Sei positiva. Tu sei ottimista. Anche io. Speriamo che finisca presto. Ehm. Vabbè nel frattempo ci facciamo compagnia fra di noi. Che a me non mi fa neanche niente male. Ma la mamma ha detto che ci richiama ma non ci sta richiamando. Aveva il telefono scarico. Aveva il telefono scarico. Ricaricherà e ci chiamerà. Allora io e la nonna stavamo ragionando sul fatto che se la gente sta a casa nessuno si ammala. Ehm. Quindi. Per me e per lei. Pensate a tutte le persone anziane come lei. Se si ammala non siamo fregati. Guarda che anziana sono. Che anziana sono. Sei bella. Sei bella. Ma bella forte anche. Eh. Sono anziana. Tutta sua nipote. Ehm. Quindi che cosa diciamo nonna? State a casa. State a casa. Ciao. Ci guardiamo il segreto. Ma quando è successo tutto questo Marina? Consuelo non riesce a ricordarlo con esattezza ma facendo un po' di mente locale. Credo sia accaduto due o tre giorni prima che esta scomparisse. Pensata ad una cosa. Aiuto. Ecco. Dicevo. Ho pensato ad una cosa. Mi avete chiesto mille volte l'home tour di casa mia. Ehm. Ancora non è pronta casa mia. Quindi per ora non ve lo sto facendo. Ma sai che cosa vi faccio fare? L'home tour di casa di mia nonna. Dice il mio cappotto. Allora. Anche perché questa è un po' casa mia. Voglio bene a questa casa. Voglio che rimanga in questo video. Così lo potrò vedere sempre. Classico lampadario di casa di nonna. Tutte le due le mie nonne avevano un lampadario così. Più o meno. Con le finte candele. Siamo al primo piano. La poltrona della nonna. Quella che si alza da sola. Anche se la nonna ora è costretta a letto purtroppo. Il balcone. Il soggiorno. Ve l'ho detto. È una casa umile. Popolare però. Qui c'è mio zio. C'era. Questo era mio nonno. Ve l'ho già fatto vedere prima. Questa è mia nonna. Qualche anno fa. I miei nonni. Uh. Non riesco. Poi vediamo se ci siamo noi. Guardate una piccola Pio. La comunione. Mia e mia sorella. Mia e mia cugina e mia cugina. Qui ci siamo soltanto noi. Io. Le donne della nostra famiglia. Qui c'è la laurea di mia sorella. Alla mia laurea non c'è. Meglio perché facevo cagare. Le mie cugine. Madonna come è carina. Come sono carine. E qui gran parte della famiglia. Insomma. Questa. Ah i miei genitori. Il matrimonio dei miei genitori. Non riesco. Eccole qua. Qui c'è la cucina. Qui c'è la cucina. E' piccolina. Però insomma. I frigorifero l'abbiamo dovuto mettere in sala. E lì c'è un altro balconcino. Qui mangiavamo con la nonna. Sugli sgabellini. Pensate che in questa casa piccola piccola. Abbiamo anche vissuto. Mi pare in otto. Quando non era pronta casa nostra. E poi. Qui. Qui c'è il bagno. Con. La vasca da bagno. Specchio. E qui c'è la camera della nonna. La mia stanzina di quando ero piccola. Quanto voglio bene a questa stanzina. Va bene. Eccomi. Uscita da casa della nonna. Qui come al solito. La strada è deserta. E me ne torno a casa mia. Speriamo che non mi fermino a noi mila volte. Sta tramontando il sole. Vabbè. Non si vedrebbe niente. Comunque. Sono dentro il cortile di casa di nonna. Che bello stare alla ripetita. Meno andrei al parco. In questo momento. Ho il parco che mi tenta. Fra l'altro qui abitavano anche gli altri nonni. Che sono morti. Qualche anno fa. È sempre bello venire qua per trovare la nonna. Ed è sempre brutto. Perché ci sono i nonni. Insomma. Vedo la casa dei nonni occupata da qualcun altro. Non è bello. E per cena. Pizza. Allora. Sto cercando di far sciogliere il formaggio. Che non è formaggio. Con troppi buoni risultati. Però. Per ora mi mangio queste due fettine. Perché ho fame. Come l'angolo dei consigli serali. Dopo essere stata dalla nonna. Mi è venuto in mente che. C'è un film di Clint Eastwood. Che volevo vedere. Clint Eastwood. È coetaneo di mia nonna Maria. La cosa è incredibile. Perché. È. Assolutamente in gamba. E un po' mi dà fastidio questa cosa. Vorrei che mia nonna avesse questa. Giovinezza. Che ha lui. Allora. Il film in questione. Quello che vi consiglio oggi. È il Corriere. È del 2018. Comunque di qualche anno fa. Probabilmente uscito a fine anno. Vabbè. Non era stato candidato agli Oscar. Mi pare. Non vorrei dire strafalcioni. Non è che mi sia troppo preparata. Cercando. Però. Se non l'avrei visto. Se avessi avuto tante candidature. Importanti. L'avrei visto. Ed è strano. Perché in realtà. È proprio un bel film. Mi è piaciuto moltissimo. Parla di questo. Anziano. Signore. Che. È ovviamente. Interpretato da Clint Eastwood. Dico ovviamente. Perché è abbastanza usuale. Che lui. Riciti. Nei film che dirige. Anche se. Mi pare di aver letto. Che. Questo sarebbe stato l'ultimo. In cui sarebbe. Comparso da attore. Infatti. Richard Giove. Quello di quest'anno. Questo invece. Candidato. Non mi pare. Che ci fosse Clint Eastwood. E. Veramente ben fatto. Veramente ben fatto. Clint Eastwood. Non si smentisce. Una regia. Buona. Non. Così brillante. Senza particolari guizzi. Secondo me. Però. Comunque. Un'ottima regia. Un buon montaggio. Una sceneggiatura. Molto interessante. Una storia. Penso che sia una storia vera. Comunque. Sicuramente romanzata. Però. Credo che sia una storia vera. Di questo. Anziano. Che. Avendo avuto. Una crisi economica. Dei problemi economici. Si ritrova. A essere. Corriere. Per il cartello messicano. Quindi. Trasportare droga. Per l'America. La cosa che mi ha. Fatto riflettere. E quanto. Più che la storia. Sì. La storia è bella. La fotografia è bella. Non patinata. Però. Sicuramente. Molto curata. E. La regia è. Molto morbida. Non so come dire. La cosa che mi ha fatto riflettere. Più di tutto oggi. È che. Clint è veramente in gamba. È così in gamba. Cioè. Ha. Quasi 90 anni. Forse l'ha compiuti quest'anno. E del 30. Li copio quest'anno. È così in gamba. Che addirittura. Fa finta di essere più vecchio. È come se si sbeffeggiasse. Il. Lo spettatore. Cioè. Finge di zoppicare. Finge di tremare. Ogni tanto ha. Questi sguardi. Un po' vacui. Come se non sapesse dove si trova. Quando è evidente che lui sia super brillante. Si prende un po' in giro. Prende un po' in giro la vecchiaia. E. È comunque una commedia. Noir. Diciamo. Crime. Fra gli altri interpreti c'è Bradley Cooper. Che vabbè. Io amo da sempre. E. Lui e i suoi otto capezzoli. Vabbè. Dopo. A. A Strasbourg. Non ne parliamo neanche. Continua a suonare. Di suonare pianoforte. Le canzoni di quel film. E. Veramente una visione piacevole. E. Non lo so. L'ho guardato così. Di impulso. Quindi. Ve lo consiglio. Assolutamente. Se l'avete già visto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se non l'avete ancora visto. E lo volete guardare. Guardatelo. Poi venite qui. E mi dite se. Vi è piaciuto o meno. Quindi nulla. Ora io mi rimetto a leggere. Il. Suggeritore. È presto. Sono lì tipo le dieci e mezza. Ma domani mattina ho una riunione. Per il lavoro. Quindi mi devo svegliare presto. Quindi cercherò di dormire subito. Anzi. Ora appunto la sveglia. Prima che poi non mi sveglio. E sono guai. E. Nulla. Vi auguro una buonissima notte. E. Se vorrete. Ce la posso fare. Se vorrete. Ci vediamo domani. In un altro video. Ciao. Ciao.